Musica Ci piace la gita in Lombardia perché vicino a casa, a due passi, riesce a trovare quello che pensano di trovare. La compagnia è sempre interessante. Ho trovato un bel gruppo di persone che vogliono rimuoversi. La gita in Lombardia ti permette di avere un pacchetto completo per persone che come me diciamo che in autonomia non si organizzano o comunque non conoscono quelle che sono le zone o i sentieri o i percorsi che possono essere fatti. Quindi un po' l'idea e l'ambizione di, come dire, voler portare alla luce quei posti lombardi che magari anche noi lombardi non conosciamo. Basso costo massimo beneficio. Bello, sono soddisfatta. Spero di poter partecipare ancora ad altre iniziative. Si gira il mondo a cercare cose particolari ma poi si scoprono sotto casa. Ciao!